Diplomati e premiati alla Grande Accademia del Circo di Cesenatico, nella specialità Icariani, signori Guido e Michael Erani! Guido e Michael, questi giovani artisti sono tra i più bravi Icariani che io abbia mai visto. Nonostante la loro giovane età, eseguono degli esercizi che solo i più esperti e grandi artisti di questa specialità riescono ad eseguire dopo svariati e svariati anni di allenamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti! E' evidente dalla perfezione degli esercizi che hanno avuto dei bravissimi maestri all'Accademia di Cesenatico. E questo, unito a una naturale attitudine, porterà sicuramente questi giovani artisti italiani a grande notorietà internazionale. Ah, un doppio! Signori, hanno annunciato un doppio salto mortale. Signori, attenzione! Doppio! Signori, doppio! Doppio! E un altro doppio! Bravissimi! Bravissimi! Sono veramente una speranza del circo italiano. Sempre più difficile! Meraviglioso! Stupendi! Signori, ora, un esercizio che li renderà famosi nel mondo. Nonostante la loro giovane età, Guido e Michael eseguiranno una pirouetta con arrivo piedi-piedi! Atenzione! Pirouette, oh, mamma mia Che succede? Si è fatto male? Ditemi qualcosa Guido, Guido, possiamo smettere? Tanto hanno visto che siete bravissimi Signori vogliono rinventare giustamente l'esercizio Mi raccomando, ragazzi, non mi fate venire il batticuore un'altra volta Siamo lì con voi, eh, Guido e Michael Coraggio Attenti Pirouette, piedi! Fantastico! Sono Michael e Guido e Rani E ora un gran finale E una, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, dieci, undi, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diecisette, diciotto Mamma mia, che bravi! Bravi, bravi, bravi! Bravissimi signori! Michael, Guido, Lorne e Italiani! Venite qui ragazzi per una piccola intervista. Grazie a tutti! È stata proprio una bella esperienza. Sono proprio contento. Molto! E noi siamo felici di lanciare questi due grandi artisti italiani, Guido e Michael Eranini.